Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su IndieGameplay.it A questo sarà probabilmente l'ultimo episodio che vedrete di My Summer Car dove vi sveglierò come fare per ottenere tantissimi soldi parliamo di 5 milioni di marchi è una delle sottotrame di My Summer Car che comunque non si è mai rivelato essere un gioco banale è una storia che si concluderà con un epilogo piuttosto tragico e che dovrete valutare bene se fare o meno una delle cose fondamentali prima di spiegarvi come funziona è di ricordarvi di pagare sempre il telefono perché nel caso in cui non pagaste il telefono non riceverete le telefonate che state aspettando infatti io sto aspettando in particolare una telefonata che avrà nel cuore della notte ed è quella in cui il tizio che ci paga il succo che noi produciamo con le sei parti di farì e di zucchero e la parte di lievito quindi ci fa guadagnare circa 3.200 monete 3.200 marchi il tizio che ci chiama nel cuore della notte tra le due e le tre in generalmente per andare da dove abitiamo noi a prenderlo al pub e riportarlo a casa che è qua di poco dopo il passaggio a livello lo dovremo fare per ben 5 volte fatte queste 5 volte dalla quarta volta insomma nella quinta che è quella che stiamo per fare questa notte che sono già sicuro che mi chiamerà in gioco inizierà ad esistere una valigia di soldi ora andremo a prenderlo dormiremo ci sveglieranno ancora della notte andremo a prenderlo una volta che lo andremo a prendere lui ci dirà guarda ho vinto la lotteria ho vinto 5 milioni solo che mia moglie insomma non vuole che è ho nascosto la valigetta e me la uso per i fatti miei per bere insomma è del motivo per cui lui ci paga tutti quei soldi per bere il liquore che produciamo noi potremo andare a rubarla questa valigia nel momento in cui inizierà ad esistere quindi dopo il passaggio che daremo questa notte e una volta che l'avremo rubata lui tenterà di ucciderci verrà a casa e cercherà di ucciderci se sopravviveremo riusciremo a stenderlo col pendolo e quindi non ci lasceremo uccidere da lui lui compierà un insano gesto sul ponte qua quindi per quello vi dico un epilogo abbastanza drammatico non molto bello da vedere e quindi due cose uno perdete un personaggio fate una cosa brutta e soprattutto non avete più problemi di soldi quindi non ha più senso neanche lavorare vi faccio questa piccola premessa una volta che avremo completato il viaggio di stanotte vi faccio vedere se non ricordo se vi avevo già mostrato come funziona questo discorso del viaggio però lo faremo diciamo che poi dovete cercare nella palude qui potete trovare tranquillamente in internet nella wiki ci sono vari punti qua nella palude qui anche qui qui davanti insomma tutta questa zona qua più o meno fino a qui da qui a qui sulla palude c'è la possibilità di trovare questa valigetta la cosa che mi piacerebbe fare anche stanotte è andare a prenderlo usando l'auto l'auto che io ho da poco potenziato dato che mi si surriscaldava un po' tirandola in strada e gli ho messo il doppio carburatore già sistemato il refrigerante insomma nuovo con il radiatore nuovo gli ho messo che altro il volano nuovo non l'ho messo ho messo semplicemente lo scarico nuovo e la marmita nuova tutta rossa bene è giunto il momento di iniziare questa avventura quindi andiamo a dormire attendiamo che lui ci svegli di notte sperando che lo faccia io mi aspetto la chiamata eccola lì e quindi a questo punto possiamo andare e dice può venire a prendere ho chiamato tutti perfetto questo succederà già dall'inizio del gioco quando avrete i primi mezzi e succederà per 5 volte perché lui poi scoprirete che ha cambiato casa quindi usando i soldi avrà cambiato casa se non ricordo male io lascio la cintura perché non si sa mai che cosa può succedere se ci sono posti di blocco accendiamo l'auto e andiamo accendo le luci lights ok via il freno a mano e diamo libero sfogo ai cavalli di quest'auto ovviamente se non volete correre ai rischi andateci andate a a prenderlo con il furgone blu perché quest'auto qui veramente va quando iniziate a potenziare adesso non è potenziata al massimo mi mancano ancora diverse parti del motore anche molto costose tira decisamente tanto vi toccherà anche ritoccare le gomme metterli all'arrettona perché veramente adesso raggiunge una velocità spaventosa sono andato anche in discarica ho recuperato il contagiri vedete lì sulla sinistra qua sotto che non c'è più l'orologio e quindi adesso vi lascerò attendere che io arrivi a destinazione con l'auto una cosa che dovete tenere in considerazione di girare di notte non è proprio il modo più sicuro di girare perché in strada ci sono dei dei cervi e quindi potete incontrarne anche investiti però insomma se vi attraversano la strada e lo investite siete voi a investirlo c'è la morte come andare addosso un albero insomma quindi se avete la morte permanente perdete tutto se no vi ritrovate di nuovo a casa e l'auto rimane lì in strada distrutta quindi insomma fate attenzione girando di notte soprattutto in in questa strada ora ci rivediamo in la chiamo superstrada insomma statale insomma la strada grossa dove daremo libero sfogo ai cavalli di quest'auto e proveremo che velocità raggiunge ma soprattutto andremo a prendere il nostro tizio vi spiegherò dove andare a recuperarlo e e dove portarlo stiamo raggiungendo una velocità folle perché siamo ben oltre il limite del del contagiri però al momento io tempo reggio perché non c'è ancora il pezzo dritto per poter sfogare tutti i cavalli e e non volevo finire fuori in questa curva adesso appena arriveremo sul rettilineo riproveremo a raggiungere una velocità folle non sta nemmeno tra l'altro avendo montato un nuovo radiatore non ho nemmeno tra l'altro raggiunto una temperatura troppo alta dell'acqua cosa che di solito succedeva e si iniziava vedere il fumo bianco uscire dal motore vediamo se riesco a battere il record e vincere il siamo a fondo scala più di così non va abbiamo raggiunto il massimo non voglio neanche forzare troppo il motore però diciamo che margine ce n'è ancora raggiungere una gran velocità ancora più alta penso si possa arrivare nuovamente a fare un giro completo del tachimetro vi do un altro piccolo trucchetto se montate l'apparecchio che trovate a casa che è questo qua di cui vedete la luce vera adesso qua tra i dadi non si vede più di tanto che è qui questo qui praticamente si mette a bippare se rileva che ci sono i poliziotti pronti a fermarvi al posto di blocco ovviamente quando li vedete dovete dargli un pugno col tasto destro e staccarlo perché è illegale quindi se vi fermano con quello attaccato vi pigliate anche la multa quindi insomma però diciamo che da soddisfazione finché quest'auto funziona è stata veramente una soddisfazione montarla ed è una soddisfazione che difficilmente un gioco riesce a dare My Summer Car per quanto sia brutto graficamente brutto ma mi piace è difficile che un altro gioco riesca a darmi queste sensazioni quindi insomma io mi sono divertito ci ho passato quasi 150 ore su questo gioco e insomma sarà come ho detto sarà l'ultimo video questo allora adesso ormai parlando per parlare ho raggiunto la destinazione ora dobbiamo far salire il nostro amico che andremo a portare a casa per l'ultima volta ripeto sono alla quinta volta la quinta volta che vengo a prenderlo da notte sono le più o meno saranno le tre di notte guardate lo vedete sempre lì davanti al pub quindi lo affianchiamo e freniamo a quel punto lì dice buonasera grazie per essere arrivato chiudi la portiera ho spento anche l'auto oh mo ok adesso quelle che ero attate lì non non sono non buono nessuno sa che io sono un vero ricco un un milionario ok ci sta dicendo che praticamente ha vinto ce lo sta rivelando adesso capite che è la quinta volta quando parte che contarle le volte che venite qua la notte perdendo tempo oh quello si è schiantato allora lui ogni volta che lo portate a casa vi pagherà una cifra che va dai 50 marchi ai 1200 dipende va a caso non guadagnerete tanto quindi è un passatempo che fate solo se avete quello di andare a prenderlo la notte solo se avete intenzione di fregargli la valigetta perché secondo me non ha senso venire a prenderlo così vi conviene molto di più se non avete intenzione comunque di portarlo o comunque fare una brutta fine e e voi avere soldi limitati vi conviene produrre ripetutamente il il succo e venderlo lui che ogni volta che riuscite a produrre il liquido che sono ogni due ore e due ore e mezzo di gioco vi tirate su 3200 macchi quindi io non vorrei ah questa non uso i soldi non posso usare i soldi perché mia moglie diventa sospettosa mi lascerebbe insomma è tutto così adesso vediamo se riusciamo a sorpassarlo almeno mia moglie sta con me non ho i soldi però almeno non se ne sta con un coltivatore di pomodori ah stiamo andando stiamo andando decisamente comunque vabbè adesso vi faccio vedere dove si gira ok subito dopo il ponte girate a destra in direzione del meccanico girate a sinistra in direzione del meccanico lo superate lo lasciate qua se vedete sulla sinistra e procedete ovviamente sempre e sempre facendo attenzione a quel pazzo scatenato di vostro cugino che gira col macinino verde perché se vi prende a una velocità folle morite una volta che seguendo questa strada arriveremo al ui 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 qua l'ho vista brutta una volta che arriverete al passaggio a livello lui abiterà poco più avanti sulla destra il problema di questo gioco è che non avendo il save io in questo caso se dovessi morire sarebbe un po' una tragedia perché dovrei rifare tutto però questo è il bello del gioco farina farina l'amor di dio ok abbiamo l'ho rischiata l'ho rischiata tanto l'ho rischiata anche di rompere l'auto però vediamo se riusciamo a rientrare in strada ok questo non fa bene all'auto soprattutto quando inizia a diventare troppo potente come in questo caso non è il massimo andare meglio rimanere bassi andare via via lisci ok lì c'è il passaggio a livello dobbiamo fare attenzione perché ormai siamo praticamente arrivati come vi dicevo mi fosse ribaltato fossi morto e chiuso il gioco e avrei ricominciato di nuovo tutto da capo perché è l'ultimo save quando voi andate praticamente in bagno e uscite dal gioco ok qua è la sua casa è il luogo dove gli depositate il killju e mi si è spinta la macchina vabbè vediamo quanto mi dà dai 50 ai 1200 vediamo se ne siamo fortunati 180 va bene non è conosciuto per la sua generosità arrivederci ok da adesso in gioco nel momento in cui io salverò la partita nel gioco esisterà la valigetta la valigetta che troveremo appunto qua sulla destra insomma da questo punto andando avanti in vari punti e ripeto non vi dirò dov'è perché non lo so cioè ci sono una decina 10-12 location diverse dove poterla trovare non è facile soprattutto se il gioco la spona nella palude però è una valigetta da cui potrete ad ogni click raccogliere 100 marchi quindi praticamente cliccando 10 volte avete 1000 sono 5 milioni quindi praticamente sono soldi limitati quindi potrete non avete più gusto a fare nulla non avete più gusto andare a spurgare a gestirvi il camion a tagliare la legna insomma avete tutti i soldi che vi servono per fare quello che volete però in compenso potete dedicarvi con quei soldi a progettare bene la macchina per partecipare e vincere il rally piuttosto che completare la storia cosa che io non ho mai fatto probabilmente mai farò perché ho già letto la trama e conquistare la ragazza insomma e chiudere l'avventura così è giusta perché alla fine siamo dei giovanissimi nel 95 però non è il mio stile di gioco mi piace di più guidare la macchina e riparare la macchina in questo caso io comunque a questa macchina io delle botte le ho date questo giro quindi insomma magari sei anche un po' danneggiata e niente ora io sto tornando a casa questo è era l'ultimo gameplay di questo titolo ovviamente io sogno sempre ma davvero sempre di poter trovare un altro gioco come questo ma quanto pare sembra essere unico nel suo genere neanche Car Mechanic Simulator mi ha dato la stessa soddisfazione di questo titolo perché appunto vi permette di organizzarvi la vita decidete che so banalmente volete andare al supermercato e comprare tutto l'olio che ha tutto il liquido refrigerante e allestire il garage lo fate e nel momento in cui portate la macchina in garage avete già tutti le vostre bottiglie di cose riempire il frigo di cibo mangiare quando avete bisogno organizzarvi con magari vari modi che so carichiamo il divano sul furgone e iniziamo a cercare la valigia con quello si può prendere la seconda casa quella che vincete a blackjack che avevamo visto nella serie che avevo fatto quindi abitare in una casa un po' più vicina al villaggio in modo da poterci andare quando si vuole insomma di possibilità e di modi di amministrarsi la propria vita ce ne sono un'infinità ed è questo che rende My Summer Car uno dei giochi indie che più ho amato finora bene ragazzi siamo tornati a casa vediamo un attimino che ore si sono fatte sono le 5 le 5 sto in giro così tanto eh si siamo presi le 2 e poi ho perso anche un po' di tempo va bene abbiamo perso tempo vedete la fatica non è salita tanto quindi se avete intenzione poi di lavorare di fare altre cose tipo tagliarne così lo potete fare anche tranquillamente ora siamo arrivati a casa avete dovuto staccare già da un po' comunque spegniamo sbarciamo la cintura andiamo a vedere se alla macchina è successo qualcosa ma non credo gli è ben dato un paio di botte però comunque se ci sono dei componenti rotti questo rumore che sentite è assolutamente normale ed è il il calore insomma il raffreddamento del motore bene ragazzi a questo punto abbiamo finito come dicevo dovremmo andare a cercare mi pare qua un punto poi ce ne sono un paio di punti qui vicino al dance dove si balla insomma uno qui ce ne sono un paio qui davanti ce ne sono due o tre qua anche qui insomma luoghi dove trova questa valigetta ce ne sono veramente tanti 10-12 insomma bene ragazzi la serie insomma i video su my summer class si concludono qui fatemi sapere cosa ne pensate e ci vedremo in altri video ovviamente ciao 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 Grazie a tutti